Ben trovati i telespettatori di Reteotto alla nostra rubrica Il Fatto. Abbiamo l'onore e il piacere di ospitare stavolta il presidente del Porto Turistico Marina di Pescara, Carmine Salce. Con lui vogliamo fare infatti un bilancio delle tante iniziative che ci sono state al Marina di Pescara. Questa è stata un caleidoscopio di appuntamenti rivolti a persone di tutte le età, da grandi e piccini e soprattutto eterogene tra di loro. Ben 50 appuntamenti, ma forse presidente anche di più, il tutto organizzato dal Porto Turistico Marina di Pescara. Nonostante le ristrettezze economiche avete fatto un cartellone eccezionale a detta di molti con il patrocinio della Camera di Commercio Chietti Pescara e della Comune di Pescara. Allora presidente, da dove vogliamo iniziare? Intanto grazie per l'invito, è stata una splendida stagione per noi. Questa manifestazione statica ormai è una manifestazione consolidata. Noi sono tanti anni che svolgiamo questa manifestazione e la svolgiamo sempre con la stessa impostazione. Noi abbiamo cercato da anni di consolidare delle partnership importanti perché un cartellone così ampio di eventi che copre un'intera stagione è un cartellone importante che da soli avremmo avuto difficoltà a svolgere. Quindi noi da anni abbiamo collaborazioni con altri enti che si occupano di spettacoli. quindi abbiamo un rapporto consolidato con le ente manifestazioni pescaresi, con il Pescaraggez e con altri soggetti. Naturalmente ci resta anche abbastanza semplice ragionare su queste collaborazioni perché abbiamo una splendida struttura. Abbiamo una struttura al centro della città, abbiamo una struttura che oltre che essere evocata alla nautica è anche evocata ad essere una piazza importante non solo per la città di Pescara ma per l'intero Abruzzo e anche oltre. Quindi noi in qualche maniera tendiamo a valorizzare questa struttura. Sono anni che ci riusciamo e siamo anche soddisfatti. Abbiamo aperto questa stagione già da giugno con un evento inaugurale che è quello di acustica quindi abbiamo aperto il 12 giugno con tutta una serie di eventi e il 24 giugno abbiamo aperto con questa manifestazione di acustica che è stato il taglio simbolico del nastro. Tanti sono stati big che sono intervenuti quest'estate al porto turistico cito tra gli altri i cantanti Tananai, Fabi Fibra, Mr. Rain e grazie alla collaborazione naturalmente anche con lo Zoo Music Festival il pianista Matthew Lee e l'attrice Anna Mazzamauro noi abbiamo cercato di coprire l'intera stagione alternando spettacoli musicali, teatrali, circo non voglio dimenticare tra le manifestazioni di punta quelle di funambolica noi abbiamo ospitato il circo, abbiamo ospitato un circo importante abbiamo ospitato spettacoli di livello internazionale e quindi abbiamo coperto anche come diceva lei all'inizio un pubblico molto eterogeneo un pubblico che è in grado anche di recepire queste diversità quindi dai più piccoli, dai bambini ma anche per gli adulti sull'arte circense sulla musica abbiamo inserito diversi generi musicali quindi con dei protagonisti di tutto rispetto e poi abbiamo continuato a consolidare la collaborazione con il Pescaraggez perché il Pescaraggez è comunque un'istituzione pescarese e portarla anche fuori dal teatro d'annunzio portarla nel porto turistico è credo un valore aggiunto sia per gli organizzatori del Pescaraggez che anche per noi e per l'intera città Presidente, è un programma che ha riempito davvero tutta l'estate come dicevamo prima dal 24 giugno al 31 agosto al porto turistico Marina di Pescara tutto esaurito non solo con gli autottoni diciamo così ma sono stati tanti turisti anche Sì, noi abbiamo avuto quasi il sold out tutte le sere tra l'altro per noi è importante movimentare il porto anche a beneficio delle attività che nel porto svolgono la loro attività perché è innegabile il fatto che se non si va tutti, se non si rema ed è il caso di dirlo stiamo parlando del porto turistico tutti verso la stessa direzione probabilmente non riusciamo a rimuovere quegli ostacoli che sono anche ancora presenti da delle ristrettezze economiche che stiamo vivendo ormai da troppi anni quindi noi dopo il lockdown abbiamo anche riscontrato una voglia una voglia di partecipazione una voglia di essere protagonisti e spettatori che prima del lockdown diciamo così era anche inferiore quindi stiamo cercando di cavalcare questa ondata noi abbiamo fatto dei riscontri anche sui gradimenti dei nostri spettacoli e non solo per il fatto delle presenze ma anche per quello che poi abbiamo visto muoversi sui social abbiamo visto muoversi su tutta una serie di apprezzamenti che noi abbiamo avuto tutti i giorni che ci sono serviti anche in qualche maniera a indirizzare e correggere anche alcuni aspetti che negli altri anni insomma hanno portato qualche piccolo problema quindi insomma siamo molto soddisfatti devo dire e devo ringraziare per quello che è stato fatto sia gli enti che ci hanno dato il patrocinio ma soprattutto devo ringraziare quelli che hanno lavorato alacremente per la riuscita di queste manifestazioni naturalmente a partire dal personale del Marina il direttore Bruno Santori che non si è risparmiato tutta l'estate naturalmente noi lavoriamo d'estate quando gli altri magari sono in vacanza e si divertono quindi chiedere un sacrificio in più ai nostri collaboratori ed ottenerlo è una grande soddisfazione come devo ringraziare anche tutti i nostri collaboratori esterni la Spray Record che ha svolto e ha organizzato anche gli aspetti tecnici di tutte le serate insomma devo ringraziare ancora una volta l'ente manifestazione di Pescaresi che con noi ha ormai un rapporto di collaborazione quest'anno è mancato un solo pezzo quello del cinema che mentre l'anno scorso con il Flaiano avevamo organizzato alcune serate al Marina invece quest'anno diciamo così questo pezzo è mancato ma naturalmente è stato rimpiazzato comunque da una serie di eventi che hanno portato per tutta l'estate ad avere un porto turistico sempre molto frequentato non c'è stato tranne qualche giorno ma non c'è stato giorno nel quale nel porto non c'è stato un evento con una manifestazione e sì lo stiamo vedendo nelle immagini Presidente insomma tantissima gente poi abbiamo visto anche gli artisti che si sono esibiti e come diceva lei l'unione fa la forza per il cinema magari se ne riparerà l'anno prossimo sì assolutamente anche perché con la Presidente del Flaiano noi abbiamo un rapporto molto buono e quindi per il prossimo anno noi non faremo mancare il nostro sostegno e la nostra disponibilità vedevo prima dalle immagini c'è stata la manifestazione che ha chiuso l'estatica Fermenti d'Abruzzo che è stata una manifestazione di grande rilevanza non solo dal punto di vista degli spettacoli e della movimentazione che si è avuta in quelle serate ma anche perché è un evento che non ci dimentichiamo noi abbiamo il porto turistico che è della Camera di Commercio è un evento che ha valorizzato un prodotto come quello della birra che in Abruzzo sta facendo passi da gigante quindi noi abbiamo coniugato anche non solo lo spettacolo ma abbiamo coniugato anche il fattore di valorizzazione dei prodotti abruzzesi dei prodotti tipici abruzzesi abbiamo nell'ambito di estatica avuto anche le serate di Mediterranea che quest'anno sono state collegate a un altro evento che si chiama Mirabilia e che quindi ha anche valorizzato i prodotti abruzzesi noi riteniamo che il porto turistico proprio per la sua posizione e soprattutto per le potenzialità che ha deve essere considerato una porta dal mare verso i nostri territori e quindi noi siamo il biglietto da visita anche per catturare l'attenzione del turismo nautico che facendo scalo nel porto turistico Marina di Pescara può poi usufruire non solo all'interno del porto di tutto il cartellone che mettiamo a disposizione ma può utilizzare anche le giornate per visitare le aree più interne dell'Abruzzo perché noi lo diciamo sempre quando un'imbarcazione approda nel Marina di Pescara la prima cosa che vede oltre alla bellezza del Marina e i servizi vede la Maiella e il Gran Sasso quindi c'è uno stimolo affinché queste imbarcazioni che magari permangono nel porto per alcuni giorni possano scendere e poi magari visitare anche l'Abruzzo questo è un segmento tra l'altro che si sta tentando di valorizzare con un progetto del Ministero del Turismo che si chiama Scopri dove ti porto che proprio qualche giorno fa ha avuto un evento all'interno del porto turistico per la promozione di questo porto turistico noi consideriamo il porto come tutti gli altri porti la possibilità consideriamo la possibilità di costituire una rete effettiva dei porti dell'Adriatico ma di tutti i porti d'Italia affinché si possa in qualche maniera valorizzare si possano valorizzare i territori venendo dal mare Ci sarebbe molto molto altro da dire ma il tempo scorre Presidente due minuti le lascio dire quello che vuole Naturalmente noi quest'anno oltre ad Estatica che è il cuore di questa trasmissione io voglio porre l'attenzione che abbiamo ospitato tantissimi eventi velici tra quelli tra gli eventi importanti che è stata la Venezia Monte Carlo il prologo della Venezia Monte Carlo l'abbiamo ospitato in quattro tappe che è una una gara di motonautica di altura di motonautica e quindi ci siamo candidati a essere tappa della Venezia Monte Carlo che è la più lunga manifestazione di nautica probabilmente anche al mondo ci siamo candidati per il 2024 ad ospitare una tappa della Venezia Monte Carlo completa beh purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato ma seguiremo le iniziative prego l'ultima cosa voglio ringraziare anche i circoli presenti all'interno del porto il circolo nautico la scufia l'asso nautico di Pescara Pescara Chieti la Dolphin che è un'altra associazione che si occupa di pesca sportiva oltre che naturalmente ringraziare ancora una volta la Camera di Commercio il Comune di Pescara l'ente manifestazione di Pescara insomma è soddisfatto si vede si vede traspare questo entusiasmo io spero che noi abbiamo seminato stiamo seminando bene e nei prossimi anni si possa valorizzare ancora di più questo porto che è un porto bandiera blu è un porto green è un porto che nel resto dell'Italia ci invidiano grazie allora alla presidente del Marina di Pescara Carmine Salce con cui abbiamo fatto questa bella chiacchierata vi invitiamo a visitare il porto turistico Marina di Pescara non solo quando ci sono gli appuntamenti ma anche così insomma come struttura una delle strutture più belle tra l'altro e più grandi che abbiamo in Italia il fatto finisce qui io ringrazio i telespettatori per l'attenzione grazie a regia Francesco Berardinelli l'augurio per tutti voi e di un buon proseguimento arrivederci